Naso all'insù è l'espressione più utilizzata oggi sui social e le foto pubblicate spiegano il perché. Ecco lo spettacolo della natura che si è ammirato in cielo e la stra-annunciata eclissi di sole parziale con l'oscuramento del disco solare del 69% al nord e del 35% al sud. Il picco a Lecce è stato registrato alle 10 e 37 ed ecco lo scatto forse più rappresentativo, la foto della falce di sole sulla statua di Santo Ronzo e di Paolo Lacu. Queste sono di Daniele Merico. Occhiali da sole e CD-ROM, lastre di radiografie e telescopi, macchine fotografiche e varie altre soluzioni improvvisate per godersi il raro avvenimento del bacio tra il sole e la luna. Un eclissi parziale per il Salento e il resto d'Italia, totale invece per chi si trova nelle isole Svalbard in Norvegia, mentre per un eclissi totale visibile in Italia bisognerà attendere il 2081. E ancora per gli appassionati di astronomia c'è da sottolineare che il 20 marzo 2015 è una data da ricordare. L'eclissi avviene infatti lo stesso giorno dell'equinozio di primavera che cade quest'anno il 20 marzo, così come nel 2014, esattamente alle 23.45.